Scusate, un attimo solo. Non lo sapevamo che non si poteva circolare. Non lo sapevamo, blocco. Polipatente e libretto. Patente? Libretto no, non ci sta. Se lo chiede. Il libretto? Hai chiesto il libretto? Non ce l'ho. Non ce l'abbiamo il libretto. Faccio la multa, quello che è. No, ha detto che c'è il sequestro della macchina. Vuoi il libretto, Ferdinando? Ma io la pigliava. Ferdinando, ma che fa la pigliava? Mi è faticata stammatina. Ammi il libretto, Ferdinando. Non ce l'ho. Un attimo solo, eh. Ma certo, è bene. È rubata. Ma che è rubata? E allora mi libretto, Ferdinando, per piacere. Un attimo. Un attimo solo. Lo prendo io. Lo prendo io, prego. No, 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 è a benzina. No, non è a gas, è a benzina. È a gas, è a gas. Sì, è a gas. Com'è a gas? È a gas. Ah, vabbè. Possiamo andare? Grazie. Tutto a posto, allora. Aspetta un momento. Grazie, arrivederci. Andiamo, eh. Aspetta un momento. Andiamo, che si fa tardi. GPL. GPL. Dal 2005. Sono cinque anni. Eh, sì. La macchina a gas da cinque anni. Mi si rimpianta, tempo fa. Mi sono dimenticato di dirti. Però di prendere i soldi da me non ti sei mai dimenticato. Che c'entra? Quelli sono i soldi per dividere le spese della macchina. Dividere le spese della macchina a benzina. Eh, ma questa con 25 euro fa 400 chilometri. Che dividevamo? Niente, 400 chilometri, 25 euro. Ferdinando. Ma di fatto non sa che i soldi con la Meghi. Sai quanti soldi ti sei fatto? Ma boffa niente, non ci pensiamo. Ci ho fatto. Che cosa? 2600 euro. Lo sai pure? Ti sei fatto pure il conto? Eh sì, bene o male. Ma poi scusa, poi l'impianto l'ho pagato io. No, l'ho pagato io. Ferdinando l'impianto a questo punto. Anzi, ti ho messo proprio qualcosa di soldi in più. Va boi, andiamo. Non fai niente. Lasciamo stare. Faccio questo. Non avveleniamo l'ambiente. No, l'ambiente no. Niente è una sattiva. Un cianuro, Ferdinando. Un cianuro. Non farmi aspettare.